Allora, bentornati in diretta e diamo la buonasera a Gianfranco Schiavone, presidente di ICS. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie di essere qui. Allora, oggi lei ha scritto una nota su due episodi che sono accaduti negli ultimi giorni qui a Trieste, uno recentissimo, proprio ieri, la morte di un cittadino romeno davanti alla stazione per un malore e ancora prima la persona del cittadino iraniano che è stato trovato impiccato lungo la grande viabilità triestina, due episodi molto diversi, l'ha detto, l'ha scritto anche nella nota, che però sembrano mandare un unico messaggio, qual è questo messaggio? Sì, il messaggio è ormai la carenza, quasi l'assenza totale in questa città di un sistema di aiuti alle persone che sono in grave marginalità sociale, quello che nel gergo tecnico si chiama la bassa soglia, che indica un insieme di interventi che possono andare dal cibo all'assistenza sanitaria e soprattutto al ricovero notturno, la cosa che è più importante, per le persone che per qualunque motivo siano in condizioni di appunto senza fissa dimora o in situazioni di marginalità sociale, indipendentemente che siano locali o non locali e qui la prima cosa che va detta è che per le sue caratteristiche geografiche innanzitutto, per la sua posizione e per anche il periodo storico difficile che stiamo attraversando, Trieste in realtà il problema fondamentale sono le persone che non sono locali, le persone che si trovano a Trieste dalla rotta dalcanica o da altri contesti per i quali però la legge e anche un minimo di etica prevedono un diritto di essere soccorsi, di essere assistiti. Ora queste due situazioni erano molto diverse fra di loro ma erano entrambe note alle associazioni di volontariato, hanno frequentato in parte il centro di urno di via Udine, hanno a volte avuto anche accesso a qualche servizio di bassa soglia ma molto poco, non c'è mai un programma per queste persone perché tutto viene scaricato sostanzialmente sulle attività delle associazioni, è un serio intervento istituzionale dei servizi sociali triestini che si autolodano moltissimo nella loro ONU e forse questo era molto vero in passato ma non è decisamente più vero oggi, questa città non ha la percezione del problema, rimuove completamente quello che avviene sul territorio e queste tragedie in realtà è certo che non possiamo sapere se per queste due persone si poteva evitare ma possiamo dire una cosa certa, non è stato fatto quasi nulla. Persone sulla strada ci sono continuamente anche adesso mentre noi stiamo parlando? Infatti ogni giorno ci sono persone sulla strada e quando parliamo di persone ovviamente parliamo sia dei richiedenti asilo di cui prima parlo tante volte che ancora non riescono ad accedere al sistema di accoglienza per le disfunzioni del sistema stesso ma parliamo anche delle persone in transito che sono la grande maggioranza e che sono composte anche lo voglio dire con molta chiarezza questa sera perché non ne parliamo mai ma ne sbagliamo di famiglie, di famiglie con bambini molto piccoli, di donne sole, per esempio questa sera ci sono due donne, almeno io sono a conoscenza poi ce ne possono essere altre, di due donne sole che resteranno sulla strada e questa sera fa caldo, fa niente se vogliamo dirla un po' cinicamente ma se fosse pieno inverno non cambierebbe nulla, rimanebbero sulla strada lo stesso allo stato attuale degli interventi o meglio dei non interventi del Comune di Trieste, si cerca un posto, non si trova mai, la locanda che era convenzionata non risponde più alle segnalazioni, quindi qualunque cosa non ha mai una risposta, quindi lo scenario, io ho fatto questo intervento per ricordare che quello che ci prospetta se non abbiamo un cambio di passo molto deciso è una situazione di una violenza inaudita nei confronti di queste persone, che è un caso per cui Trieste è sprofonda veramente in questa vergogna che una volta certamente non aveva. Che non aveva, quindi richiede servizi sociali di bassa soglia sostanzialmente come primo intervento, adeguati, adeguati a una situazione, io voglio riconoscere subito per evitare così, perché mi piace chiarire le cose, che sono consapevole che la situazione di Trieste è particolare ed è più difficile di una città delle stesse dimensioni in altre parti d'Italia, ma la scelta, la nostra posizione geografica ci mette di fronte a delle responsabilità, abbiamo delle dinamiche più simili a un'area metropolitana, che non ha una città di piccole e medie dimensioni. Quali siamo? E quindi questo però dobbiamo saperlo, perché non è che se non facciamo nulla la situazione non c'è, dietro questa inazione c'è quasi l'idea che non fare nulla fa sì che le persone non ci siano o non arrivino, che è una incredibile sciocchezza perché come ho detto tante volte la geografia non è una scelta, ma è una condizione e quindi noi non è che non facendo nulla, c'è l'idea del pull factor, del fattore di attrazione, dichiarato o non dichiarato, ma di fatto una sorta di ideologia sciocca di questo tipo, totalmente inaccettabile in ogni caso, ma particolarmente sciocca nel caso di Trieste, non c'è nessun pull factor la Trieste, c'è una condizione. È chiaro, allora oggi fra l'altro c'è stata anche un'altra operazione di polizia all'interno del Silos, sono stati controllati 150 persone, 18 non avevano i documenti, sono stati portati in questura insomma per le formalità, per farli finalmente, per fare i documenti certo. Sì, queste operazioni ormai sono consuete, devo dire sono francamente poco utili perché il vero problema è risolvere, non è monitorare le presenti, le presenti sono note, noi trasmettiamo i dati alla Prefettura molto aggiornati, molto rigorosi, posso dire, ma ho detto anche l'altro giorno qui, che abbiamo circa 250 persone in attesa di entrare nel sistema di accoglienza e quindi tutti in strada, molti più di quelli che sono ritrovati a Silos, perché non tutti erano l'in quel momento ovviamente, e altri magari hanno altre piccole situazioni di fortuna, quindi il piano non funziona, non funziona assolutamente, non è adeguato, non è sufficiente e se fino adesso si trascinava stancamente perché c'era un'eterna estate, tra poco non c'è più e anche qui accetteremo centinaia di persone all'aperto d'inverno, questi sono gli interrogativi seri che una città si deve porre. Perché comunque continuano e continueranno ad arrivare. Certo, perché il piano deve essere quotidiano, giornaliero, è una situazione che riguarda la Prefettura e il Ministero dell'Interno per quello che attiene l'accoglienza dei richiedenti di asilo, che non viene fatta in maniera adeguata nel senso di primo accesso, di celeri accesso. E poi però è un problema che investe il Comune in generale su tutte le persone che invece non sono richiedenti di asilo, come queste due persone morte, non lo erano niente, e di servizi di bassa soglia di carattere umanitario adeguati alla realtà, perché la realtà non la possiamo scegliere, la dobbiamo solo gestire. Abbiamo parlato della presenza, ad esempio questa sera, la conoscenza di due donne, ha parlato anche della presenza di famiglie, spesso ci vengono segnalate invece la presenza di soltanto maschi giovani, questo crea anche dibattito in qualche modo nella popolazione che vede soltanto giovani ragazzi arrivare sulla rota balcanica. Ci sono però le famiglie, spesso partono poi nella notte, con il giorno della notte, ci hanno spiegato. Sì, non sono molto visibili, ma ce ne sono molte, così come ci sono… Beh, innanzitutto questi ragazzi sono per forza ragazzi la maggior parte, perché vorrei dire a chi così magari non pensa molto quando parla, di immaginare cosa può voler dire arrivare a piedi dall'Afghanistan. È chiaro che le condizioni fisiche, l'età rende alcuni viaggi chiaramente impossibili ad alcune persone. Questi ragazzi sono spesso in realtà giovani, giovanissimi e sono partiti da minori, anzi come abbiamo detto anche in queste trasmissioni, molto spesso il numero dei minori è elevatissimo, ormai sono migliaia i minori in transito ogni anno a Trieste, abbiamo contato i 1700 l'anno scorso. A volte si parla anche di falsi minori. E parliamo soprattutto dei falsi adulti, io vorrei raccontare un po' invece la situazione attuale dei falsi adulti, che può sembrare paradossale, in cosa intendo? Intendo dire che sono mai molto numerosi i minori di anni 15, 16, quindi bambini a tutti gli effetti, che si dichiarano adulti appena li avvicini, perché non vogliono assolutamente entrare nel sistema di accoglienza per i minori perché hanno un altro obiettivo, l'obiettivo è proseguire il viaggio, o perché gli è stato detto così, o perché vogliono raggiungere amici, o vogliono raggiungere conoscenti, oppure legittimamente parenti. Intercettarli e sistemarli e provare a trovare delle soluzioni alternative, per loro sarebbe fondamentale, però anche qui i servizi non hanno nessun interesse a farlo, bisognerebbe ovviamente creare delle situazioni di bassa solia in cui questi ragazzi possono essere intercettati, perché se gli si dice ma non è vero che sei adulto, in realtà semplicemente fuggono e non ne otteniamo niente, come si fa l'aggancio di queste situazioni? Bisogna prendere per buono la dichiarazione, sistemare il ragazzino in una struttura formalmente per adulti, ma ovviamente che è stata un po' studiata ad arte, diciamo così, per a quel punto creare le condizioni per agganciare questo ragazzino e magari trovare delle soluzioni diverse, però bisogna avere la voglia, la volontà di fare queste cose e capire il dramma della vita di queste persone che ci scorre accanto nella nostra vita quotidiana in cui invece restiamo spesso indifferenti, per cui invece in questa differenza scorrono questi bambini, scorrono questi falsi adulti e sembra che vada bene così, non so come dire. Oggi si è parlato anche di rotta balcanica in un incontro bilaterale tra il Presidente Federiga e la Presidente della Repubblica di Slovenia, Piers Musar, qui a Trieste in occasione della consegna dell'inaugurazione del nuovo Narodunidom di Strada di Guardiella. È stato così invocato anche un maggior uso di Frontex, una maggiore presenza del sistema Frontex in Croazia ad esempio, tutto questo dal suo punto di vista può funzionare o no? Francamente direi proprio di no, innanzitutto la Croazia è un paese che ha avuto un enorme aumento delle sue domande d'asilo, certo parte ancora da numeri molto bassi, ma era un paese praticamente priva di rifugiati, adesso invece deve cominciare a gestire un numero elevato, ovviamente non possiamo pensare che questo piccolo paese possa farsi carico degli ingressi dalla rotta balcanica, sarebbe una sciocchezza, sarebbe anche una cosa ingiusta, soprattutto rispetto a questo paese e quindi è chiaro che francamente non riesco bene a capire di cosa stiamo parlando, anche perché se stiamo parlando di ciò che forse è sospetto e cioè attività di respingimento al confine esterno della Croazia, ricordo che queste sono totalmente illegali, purtroppo sono avvenute in Europa, avvengono, sono avvenute anche con il coinveggimento dell'agenzia Frontex che è sotto inchiesta, quindi direi che hanno il sapore dell'assolito incitamento all'illegalità che purtroppo vedo molto frequente nella politica. È una questione ancora non risolta, quella dell'illegalità dei respingimenti? È una questione non risolta perché l'Unione Europea è in preda a questa ossessione, invece di andare verso una soluzione, trovare soluzioni efficaci come un obbligo di ripartizione per l'appunto dei richiedenti asilo, indipendentemente da dove arrivano, allora magari arrivano anche i confini della Croazia, ma possono essere dislocati in qualunque paese dell'Unione Europea secondo dei criteri oggettivi legati alla popolazione, al PIL, quindi alla capacità di inserimento, invece di andare verso la direzione di rispettare il diritto internazionale e di trovare delle soluzioni efficaci per ogni paese, ovviamente, per evitare concentrazioni abnormi, si scelgono scorciatoie, scorciatoie che non possiamo scegliere, che ammantiamo di parole ambigue, perché non vogliamo dire che cosa sono veramente queste scorciatoie, insomma è un periodo di grande miseria, devo dire, di grande miseria politica. Allora, grazie, grazie Gianfranco Schiavone per aver sollevato questo problema, torni presto a trovarci con le nostre trasmissioni di approfondimento, grazie e buona serata. Grazie, buona serata a tutti. E buona serata anche a tutti voi che ci avete seguito, grazie.